Si chiama Movimento Liberale Italiano, il nuovo partito politico fondato e presentato ieri dal ristoratore pesarese Umberto Carriera. Un'azione politica alla cui base è posto il tema del lavoro e che si contrappone alle limitazioni imposte dai recenti DPCM. Noi rappresentiamo la difficoltà di milioni di italiani, di imprenditori, di cittadini liberi. Ci descrivi un po' le tappe che ti hanno condotto alla costituzione del Movimento? Guarda, fondamentalmente siamo partiti con la prima disobbedienza civile, quella della famosa cena e macelleria. Poi sono conseguiti altre aperture sempre dei miei ristoranti e la passeggiata contro mano, anche quella una provocazione per dimostrare insomma quello che sta accadendo nel nostro paese, dove la libertà del singolo cittadino viene limitata. Sono stato contattato in queste settimane da diverse fazioni politiche, ma la politica non mi appartiene, non ci appartiene. Noi siamo persone normali, cittadini, che vogliamo semplicemente dare voce a chi in questo momento è in difficoltà. In questi mesi, anzi dal 4 marzo 2020 e forse, anzi andrà oltre il 4 marzo 2021, che è la categoria dello spettacolo e quindi tutto l'indotto legato non solo agli artisti, ma tutti quelli che lavorano attorno a questa, che è la musica, che è il teatro, piuttosto che l'intrattenimento in generale. È il momento di non protestare più in piazza, è il momento di non fare siti inutili davanti al Parlamento, perché tanto non ci ascoltano. Bisogna arrivare dove si decide, bisogna arrivare nelle stanze dove si prendono le decisioni e quindi tutti i lavoratori dello spettacolo, se volete dire qualcosa, io smetto per un po' di fare quello che so fare e vi aiuto a fare altro e a dare voce alla vostra protesta. Il mio sostegno è un sostegno non solo dal punto di vista giuridico, ma chiaramente anche dal punto di vista dell'ideologia, per tutto quello che hanno espresso già in precedenza gli altri soci fondatori. è iniziato chiaramente nel momento in cui ho difeso Umberto Carchiera nella prima disobbedienza civile e poi si è portato avanti estendendo insieme all'Avvocato Fusillo e all'Avvocato Cicconi quel ricorso per conflitto di attribuzione che abbiamo presentato, che hanno presentato, perché poi sono stati loro a presentarlo, il senatore Sgarbi è davanti alla Corte Costituzionale e contro chiaramente i DPCM sostanzialmente di Conte.